Si preannuncia un finale di Giro d'Italia numero 103 Trilling, si arriva all'ultima conclusiva cronometro di Milano con Maglia Rosa Jane Hidley con lo stesso tempo di Theo Geogenhardt. Oggi nella ventesima frazione, quella con arrivo a Sestriere, purtroppo non si è fatto il colle dell'agnello per motivi organizzativi e qualche discussione tra Italia e Francia, si sono fatte però tre volte la salita del Sestriere. La salita del Sestriere che ha fatto selezione e all'ultimo a giocarsi la vittoria finale sono stati i due principali protagonisti di questo Giro d'Italia, cioè Jai Hidley e Theo Geogenhardt. Ha vinto il secondo il britannico con l'australiano che ha vestito per la prima volta in carriera la Maglia Rosa strappandola dalle spalle del compagno di squadra Wilco Kerdelman. Domani rivediamo grande finale a Milano con la cronometro di poco più di 15 km che deciderà le sorti di questo 103esimo Giro d'Italia. Domani rivediamo grande a Milano con la cronometro di squadra, Comand'O Comand'O Tutta la r askeda 學itä Si Grazie a tutti.